La tua insultanza? C'è stato qualcosa che non è andato con la burba? No, 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 io sono andato là sotto, ho festeggiato e basta. Hai sentito qualche risultato anche quando hanno annunciato il gol? No, 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 non lo so. Perché ti sei fermato? Perché ho insultato, mi sono fermato, risulto così. Stefan, a parte questo, la gioia del gol? No, è stato un bel gol, poi lo volevo fare perché era il primo gol all'Olimpico e sono contento e spero di farne tanti altri. Hai insomma comunque una buona partita da parte di tutti? Sì, no, no, da parte di tutti, senza Totti pure abbiamo fatto una buona partita, è una buona iniezione di fiducia per noi, per il futuro. È una cura a Ranieri che sta cambiando qualcosa, se lo vedete? No, con niente, noi abbiamo le qualità per fare bene, e poi è normale che quando viene un allenatore nuovo cerchiamo di dare sempre tutti il massimo, ci stiamo riuscendo e speriamo di fare bene anche più. È lo spazio che ti aspettavi all'inizio stagione? Ma lo spazio io me lo conquisto in allenamento, poi è normale che qua ogni volta i giovani, soprattutto siano dal settore, i giovani le della Roma, vengano un po' attaccati anche quando non giochi bene. Noi lo spazio ce lo conquistiamo in allenamento e speriamo di giocare di più per noi e per tutta la squadra.